Il bello della concorrenza è che va a vantaggio di noi investitori, ci fornisce più scelta e anche condizioni solitamente migliorative. Bene, gli ETF a scadenza di iShares, gli iBonds, hanno finalmente un concorrente. Signore e signori, i target maturity di Xtreakers. Onestamente non pensavo che sarebbe stata DWS la prima società di investimento a creare un prodotto concorrente rispetto a quello di gamma iShares. Ricordo che DWS è un asset manager tedesco ed è parte del gruppo Deutsche Bank. I suoi nuovi target maturity sono 4 ETF a scadenza e ci sono delle differenze con gli iBonds. Ma prima di vedere assieme questi target maturity, vi ricordo che ho già dedicato 3 video agli ETF a scadenza e sono video molto importanti se volete capire di che cosa stiamo parlando. Quindi vi lascio il link in descrizione. Brevemente, un ETF a scadenza è un ETF obbligazionario che ha una data di scadenza raggiunta la quale viene liquidato agli investitori in automatico. Al suo interno ci sono tutti i titoli obbligazionali che scadono in quell'anno, cioè nell'anno in cui è prevista la scadenza dell'ETF. Sui vantaggi che questi prodotti introducono per gli investitori ho già parlato molto, rimando ai miei presenti video, ma li possiamo riassumere in due espressioni, la duration calante e la diversificazione. La duration calante è una caratteristica degli investimenti in singoli bond. Quando io compro un BTP che scade nel 2026, man mano che si avvicina a scadenza, quel BTP ha una duration calante, che non è da confondere ovviamente con la durata. Il concetto di duration è un pochino più tecnico e ne ho già parlato precedentemente. Questo ci permette di evitare il rischio tassi o comunque di ridurlo notevolmente, perché più si avvicina a scadenza la mia obbligazione, più anche il suo prezzo si avvicinerà a quello di rimborso. Inoltre mi permette di avere un orizzonte temporale ben predeterminato e sono gli migliori strumenti per riuscire ad organizzarsi e a pianificarsi finanziariamente. Questo è il principale vantaggio dell'investire in singole obbligazioni, ma ha anche un lato negativo. Investendo in una singola obbligazione io mi espongo a rischio di emittente, cioè il rischio che chi ha emesso quell'obbligazione diventi insolvente. Attenzione, l'insolvenza non vuol dire per forza che l'imitenza non mi paga più nulla, ma può essere anche un'insolvenza parziale. Non pagarmi una parte della cedola o non pagarmi tutta la cedola, oppure rimborsarmi il capitale appunto non pagando la cedola. L'insolvenza non è per forza nero e bianco. Esiste di mezzo una scala di grigi. Quindi l'investire in singole obbligazioni mi dà un enorme vantaggio, un orizzonte temporale predeterminato. Un rischio tassi pressoché pari a zero, mi basta attendere la scadenza e io riottengo il mio capitale. Ma dall'altro, dall'altra parte, mi espone al rischio di emittente e quindi il rischio che chi ha emesso quell'obbligazione sia insolvente, in parte o totalmente. Ed ecco qui, questa è la rivoluzione dell'ETF a scadenza, perché hanno un orizzonte temporale predeterminato, quindi hanno il principale vantaggio delle singole obbligazioni. Ma, avendo io un ETF obbligazionario a scadenza, non ho un singolo emittente, ne ho centinaia. E il secondo vantaggio quindi è la diversificazione. Io ho la cosa più bella dell'investire in singole obbligazioni e la cosa più bella dell'investire in ETF, in un unico prodotto. Perché se anche uno delle centinaia di emittenti che l'ETF ha in corpo, se anche uno di questi dovesse fallire, per me non sarebbe troppo un problema, perché avrei altri 200 titoli a coprire la perdita. Maggiori dettagli li trovate nei miei precedenti video. Adesso passiamo al PC e vediamo i singoli Target Maturity di XTrakers. Ma prima di farlo vi ricordo che se vi va di sostenere il canale, se vi piacciono i contenuti che produco e volete sostenermi, lo potete fare lasciando un mi piace e continuando a seguirmi premendo sul pulsante, ovviamente, iscriviti. Inoltre, The New Finance è un canale indipendente, non accetto collaborazioni con partners finanziari e quindi potete sostenere l'indipendenza di New Finance inquadrando il QR code che vedete a schermo o tramite il link che trovate sotto in descrizione. Grazie a tutti e andiamo al PC. Oh, bene, bene, bene. Siamo tornati al PC, è già da un po' che non accadeva. La luce è terribile, portate pazienza. Sto sperimentando nuove disposizioni di registrazione e di luce. Tra l'altro mi sa che non si vede il LED. Un secondo. Ottimo, fondamentale il LED, perché sì. Target Maturity di X-Trakers. Allora, non sono in realtà una novità fresca fresca perché sono usciti a circa metà novembre. Sono quotati anche su Borsa Italiana, quindi sono ITF armonizzati. Attualmente non contano tantissimi scambi, non hanno tantissimo patrimonio in gestione. considerate che ce ne sono quattro e sommando il patrimonio in gestione penso che non superiamo nemmeno i 100 milioni. Perché sono prodotti nuovi, come lo erano gli iBones, perché bene o male gli iBones hanno rappresentato la vera novità. Questi hanno alcune differenze con gli iBones, ma sono prodotti di fatto molto molto simili. Partiamo subito vedendo un po'. Vabbè, saltiamo questa prima parte perché ci va un po' a dire quello che già sappiamo. i vantaggi dell'ETF a scadenza. Gli ETF Target Maturity e i quattro che finora sono stati emessi sono quattro ETF a distribuzione. Sono quattro ETF quindi che hanno una cedola, non è corretto chiamarla cedola, però hanno una distribuzione trimestrale. Xtreakers non mi pare fornisca indicazioni sull'entità della cedola come yield annuo e non fornisce neanche indicazioni, lo vedremo in termini di rendimento annuo che si blocca investendo in questi ETF in un determinato momento storico. Presumo che però saremo allineati ai rendimenti degli iBones perché anche qui si parla di bond corporate solo investment grade. Quindi parliamo dei bond societari, dei titoli di obbligazioni societarie di buona qualità, rating BBB e maggiore. Come funzionano? Un po' come funzionano anche gli iBones. Abbiamo la partenza totalmente corporate e quindi quando li acquistate, quando nascono all'inizio, nascono con un portafoglio 100% in bond corporate. In realtà tengono sempre una piccola percentuale di cash e lo vedremo. e poi il portafoglio nei 12 mesi finali, un periodo che va, e qui è una differenza con iBones, dal settembre dell'anno prima a quello di scadenza al settembre-ottobre dell'anno seguente, cioè l'anno di scadenza, va a trasformarsi da un portafoglio 100% obbligazioni corporate piano piano in un portafoglio 100% buoni del tesoro. Ovviamente non intende solo bot italiani, ma intende buoni del tesoro dei paesi e dell'eurozona. Perché fa questo? Fa questo perché, come negli iBones, è impossibile creare un prodotto composto da obbligazioni che scadono tutto lo stesso giorno. Quindi prendono 12 mesi di finestra, in quei 12 mesi, ripeto, da settembre dell'anno prima al settembre al momento della scadenza, i bonds qui iniziano a scadere, e man mano che scadono viene preso quel capitale e viene investito in buoni del tesoro. Questo fino a che non viene liquidato l'ETF, che dovrebbe avvenire ad ottobre, nel mese di ottobre dell'anno di scadenza. Viene liquidato automaticamente all'investitore. Questa tabellina ci mostra un po' i vantaggi dell'investire in un target maturity, cioè in un ETF a scadenza. È una tabellina che va bene quindi in generale per l'ETF a scadenza, perché è vero. Va a far unire due mondi, l'investimento nel singolo titolo obbligazionario e l'ETF obbligazionario, prendendo il meglio di entrambe le realtà. Andiamo a vedere ora quali sono. Il TER è allineato con quello degli iBones, quindi qui è palese che lo hanno fatto per riuscire a competere con iShares. Ne abbiamo solo quattro, tutti a distribuzione. E scadenze, 2027, 2029, 2031, 2033. Boh, proviamo ad aprire quello 2033, tanto bene o male la presentazione è uguale per tutti e quattro. Abbiamo un'esposizione globale, sono ETF e ESG, ormai ESG è marketing, è puro marketing, quindi interessa relativamente. Come vedete, in quello 2033 abbiamo un AUM piuttosto contenuto, nemmeno 18 milioni, e c'è idea di distribuzione, come anche tutti gli altri. Ora, le caratteristiche principali. Parliamo di Bond Corporate, quindi l'indice è Bloomberg MSCI Euro Corporate, settembre 2033, SRI, quindi un indice ESG, incentrato esclusivamente su Bond Corporate, denominati in Euro, ed Investment Grade. Qua poi ci indica anche che sono tutte obbligazioni a tasso fisso, quindi abbiamo una prevedibilità dei rendimenti che ci offrono, e le obbligazioni sono tutte a scadenza, compresa tra l'1 ottobre 2032 e il 30 settembre 2033. Come vi dicevo prima, questa finestra di 12 mesi è quella finestra dove avviene il cambiamento, dove man mano scadono i titoli e quindi quel capitale viene rivestito in buoni del tesoro. Dopodiché a ottobre 2033, in questo caso, quindi nel mese di ottobre dell'anno di scadenza, l'ETF viene liquidato e pagato agli investitori in netto tasso, ovviamente se siete in regime amministrato. Se proseguiamo poi, abbiamo un po' di informazioni in più. Come vi dicevo prima, l'ETF tiene una piccolissima percentuale di cash, probabilmente per la gestione un po' delle transazioni che fa periodicamente, insomma è un po' la tesoreria del fondo. ci riporta anche l'intero portafoglio, consultabile direttamente dal sito e questo è molto apprezzabile. Poi, vabbè, a noi interessa relativamente. Ci dà, vabbè, l'eising, anche questo ci interessa relativamente, replica fisica diretta, quindi abbiamo un ETF che compra il sottostante per intero, anzi no, a campione, scusate, quindi una replica fisica parziale, vabbè, comunque, anche questo ci importa relativamente, un TAR dello 0,12. Allora, vi segnalo una cosa, vi segnalo che qui ci riporta un TAR dello 0,12, ma se scoriamo verso il basso, vediamo che in realtà, tra le onere spese, che è la voce che compare nel KID, consultate sempre il KID e saprete quanto vi costa uno strumento di investimento, in realtà abbiamo uno 0,19%, perché ci sono uno 0,07% di costi operativi. Questi costi, prima, quando c'era il KID, prima del, ancora fino a fine 2022, non era obbligatorio indicarli. Con il KID, con una I, invece, adesso gli intermediari finanziari devono indicare questa voce di costo, che prima era occultata. Torniamo un attimo su e andiamo a vedere questa sezione qui, ci riporta un pochino di informazioni in più, ci mostra che, bene o male, qui mostra un po' il portafoglio, a dire il vero, con una categorizzazione che secondo me è sballata. Ci mostra l'allocazione per paese, sappiate che ci sono anche obbligazioni degli Stati Uniti, ovviamente però denominate in euro, infatti ce lo dice l'allocazione in euro al 100%. Questo grafico qui è quello più frainteso, perché ci dice, ci dà un po' un'idea dei bond come su scadenze. Qui possiamo vedere anche che c'è un bond che ha una scadenza di oltre 25 anni. Non è corretto interpretarlo così, non è che all'interno di questo ETF c'è un bond che scade tra 25 anni, ma c'è un bond che probabilmente è stato emesso diversi anni fa, al quale mancano 10 anni poco più alla scadenza, anzi meno alla scadenza, e quindi è stato inserito in questo portafoglio. In generale l'ETF è composto da tutt'obbligazioni che scadono da ottobre 2022 a settembre 2023. Quindi diciamo che guardano la vita residua, mentre qui probabilmente è la vita del bond in emissione. Il rendimento, allora ecco, da questo punto di vista qua apprezzo molto di più i shares, perché ci ha messo perfino un calcolatore di rendimento che ci permette di prevedere che il rendimento annuo lordo avrà investito in un iBond bloccando un determinato valore di quota. Questo non c'è possibile sul sito di XTrakers, dobbiamo per forza di cose aprirci la fact sheet, cioè quel documento PDF che ci riporta un po' di informazioni aggiornate sul portafoglio ad una determinata data. Eccola qui, questa fact sheet è aggiornata al 29 dicembre 2023, quindi è la più aggiornata possibile, l'aggiornamento dovrebbe essere mensile. Che cosa ci dice? Ci dice che se noi scorriamo alla seconda pagina dove ci sono informazioni più rilevanti, ci mostra un po' una suddivisione per paese, ci mostra una suddivisione per rating, ma quello che probabilmente ci interessa di più è l'rendimento annuo che l'ETF sta bloccando. Al 29 dicembre, quindi, aveva un rendimento medio del 3,63% annuo lordo. Bene o male è allineato con, a dire il vero, gli high bond. Quindi io ho visto che tra un high bond scadenza al 2028 e questo target maturity scadenza al 2033 non cambia molto, perché bene o male, sì, sono scadenze a lontano 5 anni l'una all'altra, però non cambia molto in termini di rendimento, anzi. E attenzione, vi segnalo che al 29 dicembre quest'ETF scambiava un prezzo di 28 euro e ora sta più sotto, sta a 27,36%. Dati al 19 gennaio, oggi è sabato, a dire il vero, quindi quando vedrete questo video probabilmente vedrete lo stesso prezzo che vedo io adesso. Comunque, questo per dire cosa? Che rendimento annuo probabilmente è salito rispetto a quello che vediamo nelle fact sheet. Perché? Perché qui ci mostra che il 29 dicembre il prezzo era di 28, quindi quella fact sheet è stata prodotta quando il prezzo era mediamente alto, mentre ora si è abbassato. Si è abbassato perché i rendimenti, lo sappiamo, sono un pochino aumentati da quando è iniziato l'anno, però questo ci dà un po' un'idea di come possiamo bloccare probabilmente un rendimento intorno a un 3,7-3,8% annuo, che non è male vedendo la solidità e la qualità del prodotto. Prima di dirvi cosa ne penso, anche se qualcuno di voi potrà già percepire la mia opinione su quest'etf, vi segnalo poi che la distribuzione è prefissata per il febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno. Quindi complessivamente non è che si possa dire molto altro. Sicuramente il buon prof andrebbe a analizzare tutto il singolo portafoglio contenuto in quest'etf, è un calcolo secondo me, sì, interessante, se vogliamo approfondire, sviscerare il prodotto, però mi fido vero o male dei dati che riporta il sito ufficiale di X-Trakers. Sono prodotti che io adoro, gli etf a scadenza, li uso anche molto nel mio lavoro, li consiglio molto nel mio lavoro, quindi secondo me la nascita di questi target maturity è un segnale forte del settore che è attento a questa novità, secondo me è una delle più grandi novità del mondo etf fino a quando questi strumenti esistono, quindi mi fa piacere che si stia creando della concorrenza. Io mi auguro che Vanguard proponga le sue soluzioni il prima possibile, mi auguro che lo facciano anche molte altre, Invesco e compagnia, anche a Mundi o lì con l'Ixor, mi aspetto che prima o poi sforni qualcosa di simile, perché rappresentano veramente una rivoluzione per gli investitori. La possibilità di investire nelle obbligazioni con i vantaggi degli investimenti in singoli bond, coniugati con i vantaggi in termini di diversificazione che strumenti come gli etf possono offrire. Vi invito caldamente a guardarvi il mio video approfondimento, è una mezz'ora di video, è un video piuttosto corposo, ma lì analizzo anche il caso di fallimento del gestore dell'etf, cioè che cosa accade. Lì vado a motivare perché secondo me con questi tipi di etf noi non andiamo semplicemente a mitigare il dischio dimittente, ma praticamente lo azzeriamo. Quindi rimando a quel video, se siete curiosi, un approfondimento in merito. Dovrei riuscire a far uscire entro la fine del mese il mio primo video sulla serie dedicata agli etf, sul mio corso dedicato agli etf. Come direbbe il prof, sarà un corso base, 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 ma base, base, cioè sarà un corso che avrà la funzione di raccontarvi quello che è il mondo etf, andando anche molto nel tecnico in alcuni video, ma che non ha alcuna pretesa di essere esauriente, assolutamente anche perché non sono un ricercatore accademico in merito, quindi non potrei nemmeno essere troppo esauriente. Detto questo vi ringrazio per avermi seguito, ditemi voi cosa ne pensate di questi strumenti, lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se volete continuare a seguirmi. Grazie, alla prossima!